Sponti Vagnoni, quarta di finale, Master, Coppa Italia. Ed è il calcio d'angolo, Caffaggi. Bassi gialli in air blu. Sponti Vagnoni con la squadra dell'Ascoli, quindi in air dell'Ascoli, squadra bianconera. Un attimo. Sì. Allora, automatico. No, no, non c'è, non c'è, è automatico. Questo è fuori gioco? Sì. Rientro è fuori gioco? Adesso puoi difendere. Rientro è fuori gioco? Sì. Sì. Rientro è fuori gioco. Rientro è fuori gioco. No, che cazzo! No, che cazzo! Allora, rientro è fuori gioco automatico. Sì. 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 Grazie. Tocca, difesa. Stop, jodo, cut. Giallo, tu sei gru e tu sei giallo. Togli a fuori gioco i pagnoli. Prego, devi farle che insieme. Ciao. Sì. Devo fare a scuola? Sì. Sì. Da a campo. Non lo capito. No? Non l'avevo capito. C'è una volta che è stato... Non per la difensiva. No, no, l'ho capito. Io non posso fare a scuola. Cambio. Ah, fanno pure al gusto. Sì. Un po' più in una legge. Esatto. Dove si possa col pannico. Allora non mi so questo. Ha messo col pannico. Così, è laterale? Sì, è laterale. Fatti due due. Ok. Allora. 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 Sì. Sì. Lì entrò. Difesa. Sì. Pronto, a gusto? Mmh. Gioco. Back? Sì. ... Non è tirandolo. Grazie. Peruzzi. Bravo. Becca a volo. Peccasso di vero. Carmine. Lo rifaccio. Vai. Troppo in giro. Cazzo. Lunga. Lunga. Sì. Becca a volo. Sì. Allora. Tu sei qui. La palla è qui. E lui è qui. Se l'ha fatto spunto. Sì. Se l'ha tagliato. Esattamente. No. 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 Non me ne sono accorto. No. 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 Mi chiamé. No. 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 Grazie. Bello, bellissimo. Va bene così? Ok. Yes! Che carata che ho fatto. Che cazzata. 1-0 per Fagnoni. Che c'è? Che c'è? Scusami. Che sono ottene. Scusami. Ma chi sono? Vecchio. A volo. La palla si muove. Ma come fa? Mezzo centinaio. Eh, è un cammino. Se la palla si muove, si muove. C'è la mia. Il gran paese. Oh! Oh! Quella non va. Non va a riferirla. No! cambio aspetta scusa non ci credo che sono un cuglione mano in campo comissione diretta Allora, quando sei pronto io chiamo il tiro Tiro Salto d'angolo Dio, quando vincere la palla su la mano? Quanto è il risultato? 1-0 per Colangelo Ah, 2-0 Luca Colangelo contro Carmine Napolitano 2-0 per Napolitano Qua invece come stiamo? Come stiamo qua? 3-1 per Mussino contro Frisone Ok Passiamo 1-0 di Francesco contro Signoretti Questi sono le quattro quarti di finale Trofeo Master Coppa Italia 2024 Qui a Cassiano della Pescaia C'è Augusto Vagnoni Ascolano di origine Gioca con Ascoli Abita a Tolentino in provincia di Macerata E Stefano Caffaggi Di Pescantina Provincia di Verona Che gioca con Livorno Subuto Club Bellavronico Al momento 1-0 per Pagnoni Partita molto tirata E occasione di ambo le parti Pagnoni Pagnoni con Belfiere in diagonale Dalla sinistra Primo tempo A metà primo tempo La butta dentro Pagnoni che ha sconfitto Matti Angeli Nell'ottavo di finale Per il gol da lontano A pochi secondi dalla fine Pagnoni gioca con Lascoli Inner Punto dell'Ascoli Mentre Caffaggi gioca con Bassi Gialle E Inner Blue Arbita Livio Cerullo Da Avellino Bell'arbitragio fino adesso Corretto Vediamo l'arbitro Si muove abbastanza bene Intorno al campo Molto professionale 12 minuti Per tempo Per tempo Buona Si muove abbastanza bene Che o Aspetta, cambio. Diciamo prima, quattro e finale Coppa Italia, che tu li ha master. No! No! No, perché? Quella difensiva da parte di Bagnoni, purtroppo la palla non entra, non darà di tiro e Caffaggi non può. Caffaggi appunto non ha potuto tirare. Aspetta! Cambio! 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 C'è punizione, punizione a favore di Vagnoni, 9 minuti e 30 secondi alla fine di questa vincente partita, questo ottavo di finale qui a Castellanella Pescai in provincia di Grosseto, con iniziato dalla Fist, qui è il Palamora. Grazie a tutti. 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 Gaia. Gaia a tutti. Chi è? forse il tiro calcio d'angolo a favore di Stefano Cafaggi ancora la partita è su 1-0 per Bagnoni tre piazzamenti per Cafaggi tre piazzamenti per difensore Gusto Bagnoni Peruzzi bella parata da parte di Bagnoni sul tiro devi giocare non c'è difensiva è subutile non è calcio d'arra è palla tua presa basta ti ha regalato dai ste ma perde ste palle gioca un po' gioca 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 mancano due minuti e quindici secondi alla fine di questa partita splendidamente arbitrata venisce rullo nooo si lascia Un minuto e 27 secondi alla fine di questa partita, ancora in vantaggio Vagnoni, vediamo cosa farà se metterà la palla, tenterà di fare un gol, aspetta la palla 35 secondi Ma perché mi dici andare lì? Io non capisco. Perché mi dici andare lì? 15 No, becca al volo. Cazzo! Cazzo! Sette secondi alla fine. Che è dentro? Era finito. Allora, aspetta. Becca al volo, mossa e tiro. Ed è finita la battuta. È becca al volo sulla sirena. Quindi lui deve giocare... Mossa, mossa e tiro. Dopodiché finisce la battuta. Chiaro? Ok. Sì, cazzo! Dai, cazzo! Andatevi via, eh! Andatevi via, cazzo! Andatevi via, eh! Ma avete fatto perdi! Perdi io! Allora, che cazzo vi lo metti, coglione? Coglione muoveva, Augusto. Silenzio, 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 silenzio. No! 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 Gioco mio, era finita la partita. Qui a casa, qui a casa. Beh, voi sono supplementari, ci stanno. Dai, scusate! Dai! Ma tu hai tirato sotto l'hai seguito? Ma che ho seguito! Ci ho seguito! No! 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 No, no! No! Questa è il saldo interno di 10 minuti, vuol dire chi segna per primo avviene. Per favore, per favore, silenzio. Silenzio, grazie. Ti attiratissimo. Silenzio, grazie. Spende il falo laterale, Caffaggi, 1-1, Sardentetti. Mi credo è un supplementare, dura 10 minuti, chi segna il primo vince. Questi sono gli ottavi di finale, Coppa Italia, qui al Castiglione della Pescaia, il subuto tradizionale. Tra Caffaggi e Vagnone. Bella parata da parte di Vagnone, ovviamente, a salvare il risultato. Scusate. Allora, è Lega, quindi è palla sua. Tocca il suo? Tocca il suo, Lega, ovviamente. Palla. Vai. Aspetta, deve ripetare. No, non sta attaccata, ascolta, aspetta. Allora, se proprio la vogliamo dire tutta, e cambio, perché questo non tocca, questo non tocca e questo sì. Cambio. Se tocca sì. Spazio, per favore. Sì. Si prende il falo laterale Vagnone. Allora, cambio, perché è superato il falo. Questo è battuto qua, ma va bene bene. Fuori Giove. Vincere. Difesa. Allora, gioco? Sì. Vincere. Difesa. E per il momento, dentro te. Per favore. Becco. Respira. Firmi. Grande parata da partire Vagnone. Highlander, questo Vagnone. Highlander non muore mai, veramente. Highlander. Highlander. Adesso, palla Vagnone, mancano 5 minuti e 47 secondi. Dopodiché, se alla fine di questi 10 minuti, nessuno segna, si andrà ai calci piazzati. 5 tiri a testa. Che gol che mi sono. Morco il sindaco. Morco il sindaco. Stop. Ok. Mossa. Inizia. Così. Cambio. Sì, sì. Cambio, cambio. Attenzione. Buone. Grazie a voi. Grazie. 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 Sì. Nel capolo. Sì. Maremma spaziale Cambi No Tagliato Voleva farlo laterale Sulla Sulla spazio è andato sotto Andiamo l'altra parte Senza di chiese sta giocando Bella parata Highlander Bagnoni Highlander Però Sì Guarda Che cacata D'angerello 2 minuti e 50 secondi Alla fine della partita Parata Partita che faccio Sta provando tutto Anche Bagnoni Per vincere questa partita Sta vincendo per 1 a 0 A poche seconde alla fine Tempere va a aumentare Poi c'è l'altro per il pareggio Al Un becca al volo Niente a 7 secondi alla fine Sì Sì Aspetta Questo è il bagno Automatica Ok E' il gol di Highlander Bagnoni C'è una cosa Non muore mai Bagnoni Non muore mai Veramente è una cosa La partita Penso la partita è più bella Gli ultimi 12 mesi Veramente Tutti i capelli a Bagnoni Non è fatto che è schiare